La Polizia del Stato dell'Aquila ha smantellato un'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti a tutta una serie di arti reati collegati. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia è stata impegnata in questa maxioperazione antidroga. I poliziotti della sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo e della locale squadra mobile hanno eseguito 30 misure di custodia cautelare, di cui 26 in carcere, 3 a domiciliare, 1 con obbligo di dimora, 11 perquisizioni nei confronti di cittadini stranieri italiani, indagati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, indagini che andavano avanti da due anni. Il quadro accusatorio è importante, ha sottolineato il PM d'Avoglio, 200 uomini impegnati sul territorio con l'ausilio di un elicottero per i controlli dall'alto. Il questore ha detto che oltre alle misure cautelare, bloccati anche soggetti appartenenti alle baby gang di origine tunisina, che si erano distinti per episodi legati alla movida in centro, si sta valutando anche questa situazione per eventuali provvedimenti. La dirigente della Mobile Cecchetti ha spiegato che è stata ricostruita l'esistenza di una ben precisa organizzazione criminale, che serviva una fetta di clienti di ben 650 persone, con guadagno attorno a 2 milioni di euro. Organizzazione molto strutturata, composta da italiani, macedoni e albanesi, con rapporti di parentela tra loro. Avevano piazze di spaccio ben definite, che toccavano tutto il capoluogo, una in periferia in zona pile, una appena fuori dal centro e una più importante, ubicata nei pressi del Parco del Castello, in centro storico. L'associazione ha preso negli anni sempre più affiliati per rispondere alla grande richiesta di droga. Per capire la tipologia di lavoro, la dottoressa Cecchetti ha fatto un esempio. Un soggetto che voleva affiliarsi chiede al vertice quale tipo di lavoro poteva instaurarsi. La risposta è stata proponiamo contratti a tempo indeterminato. Propone pagamento, il vertice accottimo a seconda delle dosi vendute o in base a ore lavorate, indipendentemente dalla droga venduta. C'era una precisa gerarchia dei ruoli, elevata disponibilità di vetture, appartamenti. Tre persone al vertice di questa associazione, nove intermediari, 19 pusher, sequestro di 700 grammi di cocaina. Ciò che conta è che, come ha detto il capo della squadra mobile, si è riusciti a smantellare un'associazione che presentava tutti i connettati della struttura associativa dedita al traffico di sostanze insupefacenti. Sostanze insupefacenti che verosimilmente faremo accertamenti sulla provenienza della droga, ma che sicuramente si ricollegano con l'Albania, che si ricollegano anche addirittura con la Spagna in relazione ad alcuni elementi che sono sorti nell'ambito delle investigazioni e che comunque fanno capire che nelle mani di questi soggetti, di questi indagati, vi era una notevole disponibilità di sostanze insupefacenti del tipo cocaina. È stato indicato il giro degli affari, circa 2 milioni di euro.